Ciao a tutti, vediamo in questo video le coppie più passionali dello zodiaco. In questo video voglio presentarti quali sono le coppie più passionali tra i vari segni zodiacali e quali sono le combinazioni vincenti da un punto di vista della passionalità. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo inoltre che sul canale è disponibile il servizio abbonamento, se ti abboni potrai scegliere tra i livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazioni, seminari dal vivo, abbonamento master consulting, con in più una consulenza telefonica. E veniamo al tema, veniamo al tema i segni, le coppie più passionali dello zodiaco. La passione, diciamo, è quello che rende l'amore più divertente, piacevole ed è un collante, diciamo, perché un'intesa fisica buona non dà soltanto una, diciamo, capacità di tenersi uniti, ma anche di vivere bene, insomma, le relazioni sentimentali affettive. Allora, tra le coppie più passionali troviamo due segni particolari, che sono, ad esempio, il toro e lo scorpione. Toro e scorpione sono segni passionali in modo diverso, cioè il toro è prevalentemente monogamo, ma è molto comunque passionale, ma ha una passionalità anche molto possessiva, è un segno comunque molto possessivo e anche un po' geloso. Mentre lo scorpione è un segno passionale, è un po' manipolatore, quindi queste due coppie, questi due segni messi assieme formano una coppia, una coppia molto molto importante. Il segno di fuoco col segno di terra danno proprio una, diciamo, una forza a questa coppia dal punto di vista della passione. Sarà una passione, però, anche con scenate di gelosia, una passione di questo genere. Poi troviamo la coppia composta da ariete e sagittario, due segni di fuoco. L'ariete è molto impulsivo, l'ariete è un segno che vuole dominare, mentre il sagittario è un segno avventuroso, un po' fedifrego, che ama la follia, che ama, diciamo, l'avventura. Ecco che messi assieme fanno una coppia molto passionale. Tra questi segni, però, c'è da dire che oltre la passione non c'è poi molto molto altro. Un'altra coppia particolare, diciamo, è quella formata da sagittario e gemelli. Anche qua il sagittario, abbiamo detto, che è un segno estroso, è un segno che dà tutto, ma toglie anche tutto, e i gemelli, invece, sono più delicati da questo punto di vista. però vivono comunque le cose con trasporto. Quindi, diciamo che sono coppie dove il tradimento sagittario e gemelli praticamente sarà inesorabile, sarà inevitabile, però questo non vuol dire che la coppia non possa funzionare. E poi un'altra coppia passionale è la bilancia con leone. bilancia e leone anche si danno molto. Il leone vuole essere al centro dell'attenzione e anche da un punto di vista della sessualità vuole essere adorato, diciamo, e quindi cerca però di dare il meglio di sé. La bilancia va alla ricerca dell'estetica, cosa che il leone cura moltissimo. Quindi è una coppia che funziona e funziona anche molto bene da un punto di vista della passionalità. Poi abbiamo un'altra coppia che sono l'acquario e i gemelli. L'acquario è un po' solitario, diciamo, anticonformista, un po' creativo, anche controcorrente, mentre i gemelli, abbiamo detto, sono un segno un po' ambivalente, però anche un po' libertino da questo punto di vista. Quindi è una coppia che tiene molto, tiene molto dal punto di vista delle relazioni sentimentali affettive. Altra coppia che sembra, diciamo, poco avezza, diciamo, come possiamo dire, alla passione, ma in realtà messi assieme lo diventano, sono il capricorno col sagittario. Capricorno e sagittario sono praticamente gli opposti, perché il capricorno è molto più razionale, vuole star coi piedi per terra, non vuole fare il passo, diciamo, più lungo della gamba, fa dei progetti, mentre il sagittario è viceversa avventuroso, è un segno che invece è anche abbastanza libertino. Quindi è una coppia che messa assieme, scoppietta, diciamo così, la passione inesorabilmente si accende, perché sono esattamente i polli opposti che da questo punto di vista si attraggono, però c'è da dire che è una coppia che non durerà, è destinata a durare poco, però fa un bel fuoco quel quanto il tempo che dura. Poi, un'altra coppia, il cancro scorpione, due segni d'acqua in questo caso, anche qua, nonostante siano segni d'acqua, hanno caratteristiche abbastanza opposte dal punto di vista delle relazioni sentimentali effettive, ma neanche troppo, perché comunque il cancro vuole comunque una relazione stabile. Il capricorno non è che disdegni una relazione stabile, ma va alla ricerca fondamentalmente della passionalità. e quindi si manifestano delle situazioni, diciamo, che portano anche a una passione travolgente, un'intesa speciale, è fatta di reciproci e stimolanti scambi tra questi due segni. Però, diciamo, è importante renderci conto di una cosa che proprio anche qua, per costruire una relazione a lungo termine, possono esserci dei blocchi, possono esserci degli ostacoli, proprio per il fatto che il cancro va alla ricerca di una famiglia, e spesso il capricorno non ha subito questa iniziativa, questa caratteristica. se si supera questa impasse è una coppia che può andare bene nel tempo e diciamo, e durare e mantenere viva anche la passionalità. La passione deve essere mantenuta viva altrimenti lo scorpione inesorabilmente prenderà strade diverse. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metto un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi, ci sono tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezione mirata, abbonamento top con lezione mirata e video registrazione e seminario del vivo, abbonamento Master Consulting e ancora in più una consulenza telefonica. Inoltre ti ricordo che ti troverai il link del mio nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco. Se ti piace iscriviti. Ciao a tutti.